Musica Ad accogliervi sarà Conegliano Bentrovati al meteo La pressione atmosferica si mantiene decisamente debole su tutto il paese Sul nostro territorio tuttavia il tempo sarà più asciutto Vediamo il dettaglio di giovedì 18 maggio Sul Veneto contesto maggiormente stabile avremo tratti soleggiati specie al mattino A seguire cielo molto più nuvoloso con anche qualche isolata precipitazione sulle zone montane Venti tesi dai quadranti orientali Temperature in ripresa minime tra 9 e 13 gradi Massime invece tra i 16 e i 20 gradi all'incirca Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove il contesto sarà lo stesso Cielo anche qui nuvoloso non escluse delle parentesi soleggiate Bassa probabilità di deboli piogge sui rilievi Soffierà bora moderata Temperature minime tra 11 e 13 gradi Massime invece comprese tra i 18 e i 19 gradi all'incirca Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige Dove il cielo sarà coperto al mattino con possibilità di alcune deboli precipitazioni nel pomeriggio Poi sarà via via più probabile anche qualche schiarita Temperature minime intorno agli 11 gradi Massime sui 22 all'incirca Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto Grazie per l'attenzione Arrivederci al prossimo aggiornamento Ad accogliervi sarà Conegliano